In eccellenza sarà un fine settimana con scontri ad alta quota. Il Città di Sant'Agata a Capolista va a far visita oggi pomeriggio al Giarre, in una partita che non sarà affatto facile per i peloritani. I gialloblu, settimi in classifiche, alla ricerca dei punti della tranquillità, proveranno infatti a farsi forza con il loro ottimo ruolino interno, che ad inizio stagione ha visto solo due sconfitte e vittorie di prestigio contro corazzate come Milazzo e Acireale. Proprio queste ultime due squadre si fronteggeranno domani al Marcos Almeri, trasferta da non fallire per i Granata, secondi a due lunghezze di distanza dal Città di Sant'Agata. In promozione Girone C, il Calatabbiano, settimi in classifiche, prova a rimanere in scia alla zona play-off, affrontando la trasferta in terra messinese contro il Meri. In prima categoria la Capolista Atletico Fiumefreddo ospita la Libertà Saci Real, terza forza del campionato. Ne può approfittare la paternese seconda, impegnata contro il Città di Villafranca penultimo. Il Piedimonte sarà ospite dell'F24 Messina, mentre la Russo Calcio proverà ad allungare la propria striscia vincente, giocando in casa del fanalino di coda Atletico Franca Villa. In seconda categoria sfida da non fallire per il calcio giarre. I gialloblu, che domenica scorsa si sono onorevolmente arresi alla Battistrada Pisano, giocheranno questo pomeriggio a Lingua Glossa contro la seconda forza del campionato. Un risultato positivo permetterebbe ai ragazzi di Salvo Giordano di rimanere in piena zona playoff.